lo sale sul palco Cristian Soggiu eccolo il primo ragazzo qua che si esibisce se lo stanno coccolando lì dietro voce e chitarra vero? e canta tutto non è niente di modà viene dalla scuola Caterina cittadini di Roma Santa Caterina sarà? no Caterina ah è beata beata Caterina dirige un'orchestra dirige un'orchestra vince tempera canta Cristian Soggiu scusa il disturbo volevo solo dimostrarti anche se sbaglio che si scrive più coraggio per parlare per dimostrarti che anche quando stiamo insieme sto in silenzio provo di tutto e mi chiedo senza mai capire bene quello che tu stai provando mi confondi mi confondi mi accontento mi affetto per fare l'amore con la pelle con il tuo abbraccio con un semplice mano nella mano più a mirando passo dopo passo Anche se soffro, anche se sbaglio Non sono un santo e te l'ho detto Te l'ho nascosto sin dal primo giorno in cui te ho conosciuto E ti è arrivato che sono un pazzo Ma sono pronto a dimostrarti che c'è altro Tu vorrei tanto regalarti tutto il meglio che mi porto dentro e cancellare il resto Tu sei fredda e ti difendi e di barriere ti circondi Sarò banale Sono sicuro che da amici non potrebbe funzionare quando provi un'attrazione Così forte da non riuscire più a pensare a niente Tra no quanto sei speciale come poi mi fai sentire quando vedo questo è bene Anche in un piccolo paese Senza casa e senza strade Quanto accanto posso rinunciare a tutto Tanto tutto Senza te vicino è niente Prego di qualcosa che si può far male Chiedimi pure di sparire, di dimenticare, di non tornare Di far finta che non sei speciale ma allontanami Ti prego se poi pensi che in qualunque modo L'altro non possa funzionare L'altro non può funzionare L'altro non può funzionare Hey, 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 hey Cristian, grazie che bello, proprio davvero veterano ti sei esibito suonando, cantando interpretando, sudando vabbè tutto compreso ma da dove parte per te la passione per la musica, proprio dalla tenerissima età? cantavo in macchina con il cd di mio padre, brani che capitavano sia per radio che per cd quindi la musica è già nel tuo DNA sì e allora lo ringraziamo ringrazio sia mio padre che tutti i sacrifici che fa sia per mandarmi a lezione di chitarra di canto sia mia madre che mi ha passato la passione della musica classica anche e per avere anche una bella contaminazione una bella informazione cultura per te è tutto importante ci hai veramente emozionato con queste parole è arrivato il brivido grazie Cristian grazie allora